Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Aggiungo a favorecimento delle unioni civilisi e conviventisi. Su consiglieri regionali Francesco Agus, in forza a campo progressista, ha riposto a la firma e entregava su consigli regionali una proposta di lei che punerà alla D.A. Buongiorno a tutti. Presidente della Commissione di Autonomia, Sallèi Zigiri Sandala della Cirinà, che ha riapparato un annoamento umano, meno il nostro ordinamento, sotto il suo signo, il suo amparo dei diretti, di tutte le famiglie. Ma non è vero sull'assessore al regionale per il lavoro pubblico e ha raggiunto i schianti con la comunione civile, dentro dei schiudenti gozzi di una smengua fino al 70% del sudasso di interesse bancario. La Commissione è la possibilità di approvare i salèi tra il capo della legislatura. Cento mesi in cento brazzi, è il suo nome di questa iniziativa può promuovere il referendum a Pizzus della Gannabis, zona franca, portuale e trastigio, a incuro del suo comitato pro Sardinia, che all'arroliare per i sbidati di Sardinia può convincere il canto pro Sardinia si può a Pizzus del importo dei spregunti a Paradasa. Quattro ischistioni si insudotto Sardinia, che si attobbiano tapparisi, carassumatessi profetto, può un'idea noa del sviluppo economico deciso, scappiala da estremi iniziposti su desse Stato e dai una classe politica locale che ne visioni e bisuso. Custasa isparaulosa dei suoi consiglieri regionali MDP Paolo Zedda, uno intre dei babbo di questa battaglia. Il referendum ha per toccare questa sterrida di norma dopo l'impero della Gannabis, sia la Chemeigina sia la Poi Spassio. Il porto franco, con fiscalità di aggiunto, è la creazione di un'agenzia di gestione dei strada, Sarda, in luogo di ANAS. In Cadeseda, sante prima del suo festival di literatura. Intre musica e literatura, libera evento, San Ressignia, custo a capo di gira in Cadesetta. Sa sozio contra Milonga, tra ballende i vari, siccome su comuno, a pronta rappresentare questa conferenza, apposta dei nomini I Sentieri della Libertà. Sa passillata che è terapia psichiatrica, in luogo su Mera della Sardegna, commenti che sia concordata dai soci su Andalas di Amistate, poi le persone con i stropi su De Gonca. Una medicina profettosa può giurare fino a s'integrazione. Anche a picare parte i rappresentanti di questo socio e che sia il suo distretto, delle salute mentali dei Sassle di Carbonia e Seddori. Domenico Bintiduso, sempre anche su Mac, sarà regionale a Pizzo del Libruso, con la presentazione di The Fan Side of the Monde, Giovanni Fiabane. Grando a renescita, posto principio de sa de Bintotto, edizioni de Narcao Blues. Sa Ressignia, internazionali de musica blues, de sa vida meurreddina, a incuru de sa socio progetto evoluzione, a ribiu Prazza Europa, prena de genti, a incingiare si spettacolo di questo spettacolo su chitarrista Watermelon Slime, uno bluesman, di anima raspinosa e trumentale. Dopo, è l'uomo più sul momento di Sì Giao, con sa Supersonic Blues Machine, con Billy Gibson, chitarrista e boge storica della nodida band ZZ Top. Sa de Dua Serata, aressi de sa cantanti americana Sari Shore, e posti si era appicai si scena sa cantanti e chitarrista serba Anna Popovic. A sa capu de sa musica, in Prazza Europa, sa festa alla Sighiri, con su Dopo Festival, ha chiesto agriturismo Santa Croce. Sì Torrasu, grazie, sa puoi showvera os informazioni in Sardu, Sì Torrasu, a intendi, luegosu in Canali Coranta.